Per ricostruire in qualche modo il presente bisogna pur sempre affacciarsi sul passato, in questo caso io farei riferimento proprio per spiegare anche questo presente che mi vede qui con voi, risalgo a una specie di flash che è legato a una data remota ormai della mia vita, più di 45 anni fa, nell'interno di una città che è pur sempre una città affascinante come Istanbul, in un museo che è il museo dell'antichità orientale nella sezione di archeologia. Io ero entrato per la prima volta in questo museo e mi ero fermato, e lo ricordo ancora bene, il ricordo è ancora abbastanza incisivo, davanti a una lapide di calcare, una lapide marmorea fondamentalmente, che recava una scritta su più righe in una lingua facilmente decifrabile, almeno per chi studia in questo ambito, cioè il greco, che era l'inglese di allora. Questa lapide era stata scoperta nel 1871 da un archeologo francese molto noto, Clermont Gannot, il quale aveva condotto degli scavi a Gerusalemme, e a Gerusalemme nell'area che ora viene chiamata in arabo a Hrame Sherif, che è il nobile recinto sacro, che è il grande quadrilatero dove ci sono ora le moschee e allora c'era il Tempio di Gerusalemme. Ebbene, lì aveva scoperto questa targa. Questa targa, come è noto ormai da tempo, registrava un monito, era un avviso di pericolo, che era posto su un muro, su una sorta di balaustra o cortina, che separava due spazi del Tempio. Ecco, questo ricordo mio è vivissimo e non avrei mai pensato che, per esempio oggi, avrei dovuto parlare di questa memoria del passato, di questa immagine, perché questa immagine è alla base, io direi, della spiegazione stessa del cortile dei Gentili. Perché appunto quella lapide combinava la pena di morte, almeno si diceva esplicitamente che sarebbe stato causa di morte, colui che avrebbe varcato quella cortina, quell'elemento di separazione. Ecco, quell'elemento di separazione ormai coloro che ci seguono un po', che sono abituati e che conoscono il cortile dei Gentili, sanno che era la base del cortile dei Gentili e del cortile degli Israeliti, cioè le due aree nelle quali i due diversi tra di loro, i volti, si incontravano, gli sguardi si intrecciavano. Sotto però, come si vede, il cielo, non nell'interno né di un palazzo, né all'interno di un tempio sacro, di un'area sacra. Ecco, era il luogo. E soprattutto, ecco, questo elemento, questo simbolo, è stato fondamentale, lo è ora e lo è stato per me nei dieci anni precedenti della storia del cortile dei Gentili, perché il compito nostro è stato quello, praticamente, di autocomminarci la pena di morte, perché noi abbiamo, siamo spinti sempre di più ad eliminare il muro di separazione e ad entrare, viceversa, gli Israeliti, da una parte noi gentili, che siamo pur sempre, siamo di origine pagana, di entrare in quell'area, cioè di impedire la distanza, ma anche di costituire non soltanto un dialogo degli occhi e delle parole, ma anche un incrocio delle esperienze delle persone. E questo, facendo questo, ed è ancora necessario ricordarlo oggi, perché le siepi, le separazioni, sono minori ora, però esistono, sono sempre esistiti tra credenti e non credenti, oppure tra religioni diverse, ebbene, questa separazione è stata cancellata per la prima volta in maniera esplicita da uno, un ebreo, che però aveva la cittadinanza romana, ed era Paolo di Tarso, il quale, scrivendo i cristiani di Efeso, quindi una città profondamente laica, diremmo noi dove c'era questa comunità cristiana, nell'interno di un orizzonte pagano, aveva scritto, Cristo è venuto e ha abolito, ha picconato il muro di separazione, facendo dei due popoli un popolo solo. Ecco, noi vorremmo non tanto fare un popolo con l'unica targa, ma vogliamo che i due popoli, cioè le due culture, le due visioni, si incrocino, si incontrino tra di loro, non solo attraverso una curiosità, come avveniva allora, ma attraverso un vero e proprio dialogo. Ecco, questo è un po', direi, il punto presente, che però giustifica tutto il percorso del passato. E possiamo fare un po' un bilancio, insomma, di questi dieci anni, di questo tentativo di oltrepassare, insomma, di andare oltre questo monito? Il bilancio, come sempre, è difficile da costruire perché le esperienze si delineano soprattutto entrando nell'orizzonte in cui si è immersi. C'è una bella immagine che viene usata dalla letteratura tradizionale orientale, che è quella che descrive una modalità di esperienza dell'umanità. Ed è anche, alla fine, un modo per riuscire a descrivere un genere letterario particolare che viene di solito descritto con un termine inglese, in waves, a ondate. Ed è questa l'immagine. Immaginiamo, qui abbiamo vicini, Ostia, per esempio, il litorale, si giunge in una sera, in una notte, magari, di luna, in cui la luna è piena, riesce quindi a illuminare, e si guarda il movimento della risacca. Il movimento della risacca è fatto in modo tale che le onde arrivano e più o meno, un po' meno, un po' più, coprono sempre un'area della battigia, del litorale. Ma la cosa caratteristica è che non sono mai uguali. Il loro muoversi, tanto è vero che non ci si stanca di guardarle quando si è fermi sul litorale. Se c'è la luna, ancora a maggior ragione si riflette questa mutazione. Ecco, io dico che le esperienze che abbiamo fatto sono state tante ondate. La prima ondata, poniamo, è stata quella partita, se si vuole, da Parigi, dove c'era proprio l'emblema della città laica, della città secolare, se si vuole, e arrivando poi nell'interno delle varie metropoli dell'Oriente, del nostro Oriente europeo, dove alle spalle c'era una tradizione di assenza di temi religiosi espliciti, pubblici. In qualche caso, anzi, la negazione. Pensiamo, quando abbiamo fatto il cortile dei gentili, e lo ricordo ancora bene, soprattutto per il dialogo con gli studenti, a Tirana, in Albania, dove lo Stato, precedente, l'unico Stato, credo, al mondo, aveva nella Costituzione l'ateismo, cosa che non c'era invece nell'Unione Sovietica. E quindi, in questi luoghi, ecco un'altra ondata, ma il tema era sempre quello, sono i temi fondamentali. Oppure, pensiamo, sempre un'altra ondata, completamente diversa questa, Washington, dove c'era la possibilità di dialogare in una cultura che era anch'essa secolare, ma con una grande tradizione di riflessione, anche con un retroterra di tipo religioso. Non dimentichiamo mai che il dollaro porta già la scritta di una professione di fede in Dio, che è paradossale, su quello che nella Bibbia viene considerato invece l'idolo. Quindi c'era un mondo tutto diverso, e lì abbiamo fatto, con una grande università come Georgetown, e dall'altra parte il congresso degli Stati Uniti, che è ben noto a tutti, due mondi completamente diversi, che hanno tentato anche lì di dialogare. Questo è un altro modello, ma, e se le ondate continuano, e dobbiamo un certo momento anche fermarci, io vorrei comunque almeno metterne due, che sono, tra di loro, sembrerebbero quasi antitetiche. Da una parte, non so, un cortile tra categorie di persone diverse. Pensiamo che cosa vuol dire fare un cortile dei gentili nell'interno della carcere femminile di Re Bibbia, con tutto questo respiro di dolore, di sofferenza, anche qualche volta abbiamo visto, lo vedevo io dal vivo, persino una certa reazione nei confronti di chi viene dall'esterno e porta magari un'altra atmosfera, ebbene lì e dall'altra parte accostare a questo cortile. Per dire come il bilancio sia difficile da fare, accostare, per esempio, il cortile che abbiamo fatto dei diplomatici, di coloro che per eccellenza vivono sempre su un livello più alto, hanno la possibilità sempre di un linguaggio sofisticato, di incontri che hanno dimensioni più nobili, più creative, e che magari, per certi aspetti, il tema religioso, il tema dei valori, lo devono tante volte contrattare, perché il loro compito, si dice quella battuta, che anch'io avevo ricordato in occasione di questo cortile nell'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, che hanno anche qualche volta un rapporto tutto particolare con la verità, che è un altro dei temi che si possono discutere, si discute, anzi fondamentali, tra credenti e non credenti, perché è come c'è la famosa battuta di Oscar Wilde, che diceva che gli ambasciatori dicono la verità solo proprio quando sono a corto di bugie. e quindi in questo senso la molteplicità, per questo che dico che il bilancio è proprio come quelle ondate che si può continuare a fare, però sicuramente è un bilancio positivo, perché tutte le volte abbiamo imparato qualcosa noi e forse anche loro. Ecco, lei ha usato questa immagine delle onde, anche del flusso caotico che c'è fra le onde perché vanno in ritorno e dunque non si è... Però ha anche menzionato un intuito, penso, originario. Quando Papa Benedetto chiese di trasformare il dialogo, che era un dialogo che nel libro si usava dal concetto di ateo, no? In un cortile dei credenti e non credenti e poi Papa Francesco ha continuato questa intuizione, cadeva sulle sue spalle di configurarlo in un certo modo. Allora, questa intuizione di configurarlo che lei ci ha raccontato che era Istanbul. Oggi e anche nel futuro è la configurazione giusta? C'era qualcosa di diverso che si poteva fare in meglio o in peggio con un'està, diciamo. Prima di tutto, diciamo, ritorniamo ancora alla testimonianza personale perché inesorabilmente io sono stato coinvolto in prima persona, prima di voi anche e devo dire anche il di Castero sostanzialmente è stato, ha seguito questo percorso che vi ho indicato e tutto nasce appunto da un dicembre in cui c'è la tradizionale cerimonia degli auguri al pontefice, come l'ha detto XVI, io ero presente come cardinale e in quell'occasione ho raccolto quel paragrafo che era un paragrafo finale fondamentalmente del discorso del Papa, di Papa Benedetto e in quell'occasione ricordo ancora bene che l'idea allora mi era sembrata veramente significativa anche se Benedetto XVI la intendeva soprattutto come un presentarsi al di là di quella siepe di quel muro in cui stanno i non credenti o comunque quelli che hanno visioni molto diverse era un modo per presentare l'identità cristiana nella sua ricchezza, complessità e culturalità ecco questa visione che era partita con Benedetto XVI è diventata poi appunto questa serie di ondate come dicevamo la domanda che lei mi fa è questa qual è il bilancio sempre positivo e negativo io penso che il positivo sia decisamente superiore non perché da quel momento in avanti io sono stato coinvolto quindi inesorabilmente l'autoreferenzialità da sempre un giudizio positivo ma anche perché oggettivamente credo la creatività e poi quelli che hanno collaborato con noi sono stati veramente partecipi in maniera sintonica con la sintonia e la simpatia non semplicemente con un ascolto o con una collaborazione e qui voglio ricordare anche padre Loran Masas che è stato subito l'artefice con me immediato di questo progetto però come sempre ci sono i limiti e i limiti credo che siano sostanzialmente nel fatto sono due i limiti da un lato lo devo dire con molta sincerità è difficile trovare soprattutto su alcuni temi radicali capitali fondamentali è difficile trovare il credente che abbia le ragioni del suo credere in maniera coerente cosciente e non semplicemente in una maniera vaga o di adesione spontanea o istintiva per la sua matrice e dall'altra parte avere nella stessa maniera un non credente autentico nel senso che ha una visione del mondo non semplicemente nega Dio dicendo che è fantasia e questo ha una visione alternativa che prescinde da ogni trascendenza cioè che prescinde da ogni visione che supera l'orizzonte concreto questo è stato il primo grande limite abbiamo sempre fatto fatica per cui non sempre i due rappresentanti è capitato dei momenti in cui tendenzialmente io stesso mi stupivo perché quello che doveva essere il mio interlocutore negativo non credente alla fine tendenzialmente si rivelava più credente di me tant'è vero che un certo momento io proprio mi ricordo in una famosa famoso cortiere dei gentili in una università a Catania con un scienziato che anche un po' aveva l'età di tipo filosofico e che ha cominciato a fare prima la sua professione di ateismo una professione solenne dice io però devo fare questa dichiarazione all'inizio e l'abbiamo fatto tutti gli studenti di questa università e alla fine io però ho detto la scoperta che avevo fatto era che allora anch'io sono almeno per metà ateo perché tre quarti di quello che lui aveva dichiarato come professione di ateismo lo condividevo ecco perché dico che i confini sono difficili questa è la prima e un'altra considerazione certamente di limite è che il dialogo di sua natura non è soltanto fare incontrare due che parlano di un tema secondo angolature diverse la parola dialogos vuol dire questo certamente dià incrocio però anche all'ONU fanno dialogo tante volte risultati cioè sempre cercare il minimo con un denominatore è un po' la grande tentazione che c'è sempre quella che dice la Rochefoucault questo sapiente moralista del seicento francese che diceva se continuiamo a interessarci delle cose minori diventiamo incapaci delle maggiori ecco è la tentazione questo si discute un po' oppure si cercano persone che invece dialogos dia vuol dire anche giù in profondità ed è per questo che tante volte io dico qualche cortile francamente non è stato dià diabasi scendere in profondità e questo è naturale anche spiace perché certe volte sembra essere un intervento ma alla fine sia per la prima che per la seconda diciamo dei due limiti non tocchiamo sempre il problema della differenza fra essere convinti e essere convincenti in un certo senso cioè c'è autonomia fra queste due realtà una persona può essere veramente convinto essere poco convincente può essere molto convincente molto convinto e quanto essere convinto e convincente importa in un dialogo alla fine se un dialogo è vero non è questo una diciamo l'ostacolo numero uno sì questo è vero è vero effettivamente diciamo che la il dialogo di sua natura suppone sempre almeno due volti da un lato è certamente informativo è perché si cerca di fare in modo io ho scoperto effettivamente che per esempio faccio ancora gli esempi concreti di dialogo di cui ho partecipato dialogo di un'altra università nella quale il mio interlocutore ha detto è inutile che perdiamo tempo qui a discutere più di tanto perché tra me e lei non c'è un concetto di natura umana condiviso ed è vero oggi è difficile trovare perché pensiamo soltanto per noi il concetto di natura umana è ancora fondato come per molti le visioni culturali è fondato sul principio aristotelico agere seguiture essere cioè vuol dire che l'essere precede l'agire l'ontologia è prima della deontologia e questo è chiaro che allora fa sì che esistano delle norme morali fisse ancora Kant che ha dato tanta importanza al soggetto all'io però alla fine cosa ha detto Kant ha detto che la legge morale dentro di me è il cielo stellato sopra di me la fine famosa finale della critica della ragion pratica e beh queste due dimensioni sono dimensioni pur sempre tra virgolette oggettive anche la legge morale dentro di me perché non è che io la elaboro come il ragno che tira fuori il suo filo e crea la sua ragnatela è pur sempre una base strutturale noi ai nostri giorni invece tendenzialmente abbiamo il concetto di legge naturale di natura come una realtà fluida mobile queer appunto pensiamo alla questione alla discussione sulle teorie del gender che nasce proprio da questo e io dico ecco perché quello che dice lei è importante prima di tutto devo cominciare a scoprire a informarmi su un mondo che è cambiato su una visione che è completamente diversa per esempio dalla mia ma dall'altra parte ecco è questo e qui entra la seconda dimensione non si può non escludere se è un vero discorso non si può mai escludere l'elemento performativo perché io quando annuncio la mia io in un certo senso cerco di convincere l'altro a meno che uno parla di una questione assolutamente irrilevante per certi versi persino la scienza ha una dimensione performativa tant'è vero l'abbiamo visto per il Covid come si si battagliano tra di loro perché tante volte l'elemento va oltre la scienza stessa è il tentativo di dimostrarti che la mia visione in questo senso è più completa e più compiuta ecco perché dicevo che queste distinzioni sono certo è fuor di dubbio che quando uno arriva lì sia l'ateo sia il credente e ha il compito di essere apologeta cioè arriva con lo scudo e la spada perché dice io ho la verità allora in quel caso evidentemente cade il dialogo ma se arriva semplicemente così dice beh stiamo discutendo come in un convivio familiare su qualche cosa e anche lì non scatta il fenomeno del dialogo ecco perché è estremamente difficile Eminenza io vorrei aggiungere due elementi che secondo me ancora non sono emersi parlando di dialogo e che c'entrano sicuramente con i limiti del dialogo e sicuramente anche con il convincere forse due dimensioni che abbiamo un po' perso almeno nella società di oggi e sono l'ascolto e la reciprocità in che modo il dialogo e l'ascolto sono connessi ci può essere un dialogo senza ascolto? Beh perbacco questo è evidentemente sempre ecco scavando nell'interno della categoria dialogo si vede quanto è complesso questo fenomeno apparentemente così normale noi stiamo facendo adesso un dialogo e sembrerebbe essere un po' scontato anche perché effettivamente ci muoviamo nello stesso orizzonte in realtà il dialogo io penso dato il mio amore particolare per la letteratura greca per Platone ecco i dialoghi di Platone erano fatti costruiti con una lunga articolazione tra i due con le tesi diverse per poter raggiungere alla fine una meta e questa meta pensiamo tanto di dire il fedone con gli argomenti sull'immortalità dell'anima contrastati dall'altro interlocutore il cretone che è la stessa cosa ebbene questa impostazione che è la descrizione di quello che dicevo prima può realizzarsi solo è vero quello che dicevo solo se esiste questa dimensione che è la dimensione dell'ascolto la dimensione dell'ascolto però intendiamolo bene non è vediamo che adesso l'ascolto è tendenzialmente cancellato nell'interno dei talk show perché di sua natura l'altro deve cercare in qualche modo di prevaricare sull'altro non ascolta tutto quello che l'altro dice non ascolta prima quello che l'altro dice parte già dopo la prima frase cerca di sopravanzare o di aggredire ecco in questo caso l'ascolto è certamente come prima fascia quello di riuscire a sentire e quindi tacere perché l'altro parli ascoltare tra l'altro è una realtà molto difficile c'è persino una grammatica dell'ascolto uno come me che è abituato a parlare spesso in pubblico teme un pubblico in particolare quello che io temo di più normalmente che non è quello degli intellettuali evidentemente perché hanno il mio stesso linguaggio la mia stessa appunto grammatica sono i bambini i ragazzini perché quelli hanno le curve d'ascolto perché effettivamente non si può continuamente sentire ascoltare non è sentire perché sentire è una serie di fenomeni fonetici che ti colpiscono e che ascoltare è tutt'altra cosa perché è cercare di cogliere il messaggio dell'altro e naturalmente erigere o l'elemento d'ascolto l'orecchio che ascolta oppure semplicemente proprio la reazione di rifiuto di rigetto ma dopo aver ascoltato il messaggio tant'è vero che in italiano c'è una parola molto significativa quando si deve dire che una cosa non ha nessun senso non ha nessun significato è una cosa veramente che va al di là del paradosso proprio è contraddittoria cosa si dice? Assurdo l'assurdità ecco perché l'ascolto è fondamentale e l'ascolto naturalmente è interessante notare per esempio nelle letterature semitiche che conosco di più io il verbo ascoltare a partire dall'ebraico che è la lingua diciamo tradizionale per la cultura nostra la cultura occidentale dato l'influsso della Bibbia shama ascoltare significa anche obbedire il che vuol dire che tu hai colto ecco qui entriamo poi nel nel discorso di prima tu hai colto il messaggio e alla fine lo abbracci questo però non necessariamente è sempre l'esito può essere anche il rigetto sul tema della reciprocità penso che sia tutto il discorso di prima la reciprocità quello del fatto che tu arrivi anche perché l'altro possa convincerti e tu possa convincere l'altro io vorrei rimanere ancora un attimo sull'ascolto se l'è d'accordo Monsignor Polvani perché personalmente ho avuto la fortuna di sentirla parlare tante volte ma in un'occasione particolare ho avuto l'occasione di osservarla ascoltare l'ho vista ascoltare i giovani della sua consulta giovanile e oggi tutti vogliono parlare ai giovani è uno dei grandi obiettivi istituzionali aziendali tutti vogliono parlare eventualmente con i giovani è difficile porsi nella condizione di ascoltare i giovani e vorrei chiederle cosa cosa significa per lei questo cosa cosa ha ascoltato cosa ha sentito se lo può condividere un po' con noi certo io prima dicevo che il pubblico più difficile è quello dei ragazzini quello dei giovani appartiene ancora a questo orizzonte e appartiene a questo orizzonte di difficoltà quindi da parte mia anche perché sostanzialmente soprattutto ora devo dire perché quando io ho iniziato ormai io appartengo a una generazione precedente ho visto tanti soli sorgere tramontare e quando io ho iniziato i giovani avevano sostanzialmente beh a parte il fatto che ero giovane anch'io ma avevano sostanzialmente il mio linguaggio avevano una concezione anche del mondo che sostanzialmente era parallela adesso questo non accade più loro parlano in maniera diversa rispetto alla nostra alla nostra della generazione diciamo precedente e anche un po' della cultura precedente tant'è vero che loro hanno anche pur usando la stessa nostra lingua hanno un linguaggio diverso e lì io ho avuto la fortuna di avere come amico Umberto Eco che lui ha studiato e ne parlavamo più di questo il linguaggio dei giovani per esempio statisticamente quantitativamente il giovane usa normalmente adesso del vocabolario italiano 800 100.000 vocaboli tra 800 e 1000 l'italiano non si sa bene quanto ne abbia però perché continuamente cresce però siamo sull'ordine 160.000 forse 170.000 quindi immaginiamo come viene ritagliato l'orizzonte linguistico è fatto diventare linguaggio per cui è necessario prima di tutto testare proprio la sua domanda che io sono molto incuriosito di loro perché devo cominciare a imparare una lingua straniera devo sentirla poi e loro effettivamente devo dire che qualche volta riescono ad esprimere tutta la gamma tutto l'arcobaleno complicato dei sentimenti poniamo con questa povertà estrema dei vocaboli che però vedete usano in una maniera tutta particolare li plasmano sono come si dice tecnicamente ma è un po' difficile sono polisemici per loro l'unico vocabolo ha più significati oppure arrivano al punto che è il punto estremo nei cui confronti io alzo le mani in segno di resa ricorrono la pittografia cioè disegnano fanno il disegnino l'emoticon esatto e questo è veramente però l'emoticon come dice la parola è una parola greca indica proprio l'emozione cioè indica la complessità dei sentimenti che però riducono ecco perché dico la mia esperienza è stata prima di tutto quella del cercare è una questione proprio di tipo linguistico che non è però curiosità linguistica perché se tu non conosci un'altra lingua è come se fossimo muti è come se fossimo sordi anche entrambi l'altra cosa è legata al fatto che loro hanno un concetto di relazione e che ho visto che è molto diversa dalla nostra da quella tradizionale a definizione relazione che però al tempo stesso è estremamente incisiva immediata pensiamo e qui al problema della relazione qui bisogna affrontarlo oppure la relazione sessuale loro la vivono in una maniera molto più semplificata e devo dire naturalmente con tutto il negativo che comporta per esempio la semplificazione è povertà e questo è fuori di dubbio quindi perdendo la dimensione dell'eros della tenerezza del sentimento della fantasia della poesia del necessario pensiamo come si fa a scrivere all'innamorata o all'innamorato sul cellulare rispetto alla lettera che si scriveva una volta persino col profumo persino con il nastrino è chiaro che i sentimenti però perdono anche qualche volta la dimensione dell'amore detto questo però non è vero che loro vivono solo esperienze di sesso puro perché vediamo si disperano magari in una maniera perché il rapporto non è stato costruito però vivono anche l'esperienza umana della relazione ecco quindi e purtroppo devo dire che tendenzialmente non trovando nessuno che si preoccupa di entrare in relazione con loro il compito della consulta giovanile è stato proprio quello di cercare qui io parlo poi a una persona giovane come lei rispetto a noi il tentativo di parlare con loro proprio diceva bene a parlare ai giovani per noi sempre il problema è questo è parlare a loro non far sì che parlino i giovani a noi e il risultato è che loro per me ecco lo rappresenterei in un simbolo è il giovane che quante volte vi capita quando io cammino per Roma soprattutto a Lungotevere o da qualche altra si vedono questi giovani che avanzano con la cuffia e le cuffie sono proprio la visiera calata cioè loro non ascoltano più questo cioè questo mondo non ha più nulla da dire a loro e sono chiusi ecco perché allora l'ultimo elemento che introduco che ho cercato e che per merito anche suo devo dire di Giulia ma per merito di questi ragazzi anche è quello di tentare di entrare in un altro linguaggio loro autoreferenziale fondamentale che è la musica i giovani oggi hanno fondamentalmente come linguaggio dominante la loro musica che è diversa naturalmente da quella che e devo dire che questa esperienza è un'esperienza che io ho fatto molta fatica devo dire perché è chiaro che il mio orecchio ha proprio le onde diverse i livelli diversi d'ascolto uno che è abituato a sfruttare sempre musica classica è chiaro che non entra comunque però anche coi testi diciamo soprattutto coi testi direi però dopo scopri che in realtà sono appelli e qualche volta sono anche elementi che hanno deciso la loro vita certe mentalità certe visioni negative io cito sempre ma è un esempio un po' banale Amy Winehouse è proprio l'esempio le sue canzoni i suoi testi anche sono estremamente tenebrosi negativi e alla fine se tu li ascolti quelli sono introducono anche un comportamento e io devo cercare di capire questo anche per la letteratura e per certi verso vero è vero una letteratura che parla non parla più ai giovani ma se dovesse parlare ai giovani avrebbe qualcosa forse da far cambiare invece in realtà la letteratura anche adesso dice poco e se dice qualcosa lo dice in maniera tale che loro si lasciano ecco perché dico per concludere che è vero io mi sono messo tendenzialmente per ritornare alla parola in ascolto prima ancora di aver parlare a loro grazie a tutti Grazie a tutti